In quel periodo la famiglia di Greg Fowle perseguitava ancora John nei tribunali degli Stati Uniti con una richiesta di 25 milioni per una causa di morte ingiusta. Forse c'è il suo zampino in quello che è successo a Greg Fowle. Forse c'è qualcosa di più in questa storia. Volevo la storia, volevo la verità. Sì, la volevo.